L'FC Crotone, attraverso i suoi canali network, ha annunciato l'arrivo di un mediano di spessore, costui porta il nome di Nahuel Estevez, sangue per metà argentino e metà spagnolo quello del centrocampista classe 95 di Buenos Aires. Dunque, una seconda chance in Italia, dopo l'esperienza dello scorso anno, con la maglia dello Spezia in Serie A. I Pitagorici lo hanno prelevato dalle Studiantes La Plata a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto fissato un migliore e mezzo, giocatore molto duttile che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, bravo sia negli inserimenti e sia nella fase di interdizione. Sarà difficile vederlo in campo già domenica sera al tombolato contro il Cittadella, ma sicuramente per la prospettiva sarà un valore aggiunto.